Siamo dovuti fermare durante la seconda prova speciale per una panna elettrica e non si capisce, la macchina si è fermata e siamo rimasti a bordo strada e niente, era partita abbastanza bene perché comunque era una prova spettacolo e avevamo fatto un bel tempo e adesso dopo Genova, avevamo vinto la classe Genova avevamo fatto secondo a Como e qua cercavamo di fare di nuovo un bel piazzamento per guardare di riuscire a lottare anche per l'assoluto di gruppo N e invece niente, siamo fermati Comunque l'anno prossimo Verona vi aspetta perché dovete almeno finire e arrivare, quello che avete lasciato bisogna finirlo Sì, guardiamo l'anno prossimo di andare su e vedere se riusciamo Anche perché Verona hanno detto tutti che è veramente una bella gara Sì, bella, veramente Noi l'abbiamo vissuta poco però il poco che abbiamo vissuto è bello, organizzata bene bei posti, bei paesaggi Bello, bello Vi vedremo allora sicuramente l'anno prossimo Sì, speriamo, speriamo Grazie